Sindaco, di fronte al Parco San Valentino si trova a Parco San Carlo, un'area verde riqualificata con un bel percorso ciclopedonabile. All'interno ci si imbatte in un rudere. Di che cosa si tratta? È un rudere che però ha un valore storico e identitario per Pordenone notevole. Si di proprietà del comune è poi completamente abbandonata. Anche attraverso il finanziamento europeo di un bando che ci siamo aggiudicati potremmo riqualificarla completamente dando una destinazione utile a Pordenone. Lo studio che abbiamo fatto parte da una considerazione, cioè le città medie e le città medio piccole come Pordenone sono comunque attrattive per il turismo morbido, cioè quello che arriva in bicicletta oppure quello che vuole camminare. E noi abbiamo una rete pedonale straordinaria perché il seminario, via Piave, Parco di San Valentino, San Carlo, stiamo realizzando il settore dell'Operaia che ci permetterà di arrivare fino alla burrida. Quindi chi vuole camminare, correre o chi vuole visitare Pordenone in bicicletta, esiste questa forma in turismo, non ha oggi un punto d'appoggio. Lì invece sarà possibile lasciare i propri oggetti, gli effetti personali, parcheggiare la bicicletta, cambiarsi e ovviamente lasciandoli custoditi, ma anche realizzare una piccola foresteria per quanti, non volendo andare in albergo rispetto a strutture un po' troppo formali, potranno trovare un posto in cui dormire. Quindi è una struttura turistico-ricettiva legata appunto a un turismo crescente rispetto al quale Pordenone era poco attrezzata.